Sì sì dai poi torno su e firmiamo il contrattino dai Noi che sono a Napoli Sto per assaggiare la famosa pizza napoletana Vuoi vedere che almeno una cosa sti napoletani lascia fare Poi magari qua in pizzeria ne trovo uno che sta lavorando Miracolo proprio Poi dice perché uno vota la Lega Ma è normale che vota la Lega Il popolo napoletano è disgustoso e vicino Sì vabbè dai ci sentiamo Ciao ciao testina ciao Pensa a te se non dovevano mandarmi a Bagdad stasettimana Mi scusi ma non ho potuto far a meno di ascoltare Quello che lei non sa è che a Napoli in superficie Può trovare alcune delle piazze e dei monumenti più belli del mondo La cucina tra le migliori e al prezzo più basso Musei, chiese, arte, cultura, tradizione Il Vesuvio, il mare Sotto invece oltre alla splendida Napoli sotterranea Ebbene sì, devo darle proprio ragione Davvero ci può trovare qualcosa di disgustoso e viscido E che cosa? Azzocca le mammate Esatto Ah, per il conto non si preoccupi La pizza gliela offre il popolo napoletano Buon appetito Buon appetito Grazie a tutti.